Non c'è altra soluzione Io alla fine faccio così perché quando sbagli così è l'unico però cazzo sarà un modo no non c'è modo allora adesso avvolgo il filo su tutto il su tutto il corpo se ci fosse stato allora prendo sempre un bel ciuffo di capriolo un po' cacato cerco di pulirlo fate attenzione mi raccomando cerco di pareggiarlo ma non ce la faccio poi lo monto in avanti così fa abbastanza schifo però e lo vado a fissare appena dietro l'occhiello adesso torno indietro abbastanza velocemente tenendo come base del corpo il la parte di di fibre posteriori e a questo punto vado a vedere un po' la lunghezza più o meno giusta sandrine lui sta guardando tu non lo sai ma stavolta poi stanno un'altra cosa allora ci vorrebbe la pinza quella che vi stavo dicendo prima che costuma in su una pinzettina di plastica che va a infilare allora io ho una parte non ho l'altra nel senso che ho questa basta un pezzettino di forno si basta il forno la infili e finì dentro ti va il calamo sotto e tutte le bambole tirate su in piedi le prendi con la pinza tagli il calamo ma capito un cazzo e poi ti faccio vedere e così sta prendendo mezza fuma se la prendi così e c'è il pezzettino di forno con la caccia di si chiude le bambole si chiudono se la prendi con una pinza di plastica e poi la prendi con il calamo cioè tutte le bambole allora avvolgo col decanare hai fatto un montaggio di naso? si perchè non c'è dietro quando arrivo qua vedi che è abbastanza largo mi lascio un centimetro di col decanare e l'assaggio è fatta finita e questa è cattura con ferro questa questa lì la trova e succede quello che succede a me che quando le monti si allarmi in quella maniera ma lì va bene proprio se hai un pochino questa qua io la uso molto quando le sale la fai a negare la muori e torna su no è perchè ciò c'è allora a questo punto la la tiri deve essere perfettamente non ci deve essere aria niente fate due o tre volte e si è abbassato così vedi non c'è altra alternativa non c'è altra alternativa fibri e certo è come i capelli te non lo sai il motivo per il quale tu non lo sai è quello devi provare a fare l'azione quindi e questa non sono da dire se poi la fai a me hai messo la battuta su un piatto d'argento quindi vi faccio vedere la cosa la stessa allora quando allora che sia gallo che sia gallina che sia qualsiasi piuma ma anche la pernice poi vi faccio vedere anche la pernice cazzo 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 è vero costa più degli anni si però la costruisci una maniera diversa si si è rotto è strano no si è rotto è strano mollare non molla no era la punta fuori di girare quindi voi volete fare uno spider una cosa che non sia così voi tirate tutti indietro vede che se io lo tiro rimane comunque sempre così ciao 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 cazzo 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 ti accendi le sigarette guarda quello dei luci di settimana scuola 50 euro questo qua se lo vuoi 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 allora la pernice o qualsiasi piuma che voi volete la fissate ok questa è una mosca già fatta eh se uno usasse una mosca del genere cipigli e pesci senza corpo senza un cazzo questa potrebbe essere tranquillamente una seggia cazzo che ne capiscono i pesci allora sono è così? dal basso Dani guarda allora tiro tutto indietro allora se dentro se dentro c'è dell'aria c'è dello spazio bruci tutto eh si l'ossigeno eh beh comunque esternamente l'aria c'è quindi puoi bruciare lo stesso eh però implode eh allora se tu lo fai così ti brucia tutta giusto? se adesso gli do una fiammata brucia no stai no non cazzo perché non la ti riforma se tu ce l'hai così sotto non c'è non c'è spazio non c'è aria non c'è niente giusto? gli dai una fiammata una così e ti rimane perfettamente perché gli hai dato la piega gli hai dato il calore è come i capelli delle donne ok per malini eh sì più o meno la vuoi ancora un po' prendi quel fuo che c'è così ho fatto un passaggio non c'è niente sì e questa potrebbe essere una seggia e per forza tutta cosa vedi che io quando lo faccio lo faccio una volta certo poi la spingo poi la rifaccio poi la ritengo così e gli fai uno passato due passaggi se gli metti un collarino magari in gallo è una seggia basta certo più o meno assolutamente no non ti può sparare poi così eh perché ormai la piega la tua piega l'ha presa eh ti può aprire un pochettino appena appena ma la piega la piega è qua assolutamente sì se io prendo il cervo eccolo qua senza frio è un po' difficile però metto anche qua volendo adesso proviamo a farlo anche con quello che è sparato tutto in avanti è un po' difficile come è il cervo vedi questi qua no ma questa qua io questa qua c'ho preso già preso e c'ho preso e c'ho preso e c'ho preso un po' da roba in sceglie ha legato poi tra e c'ho preso e c'ho preso e c'ho preso e c'ho preso allora anche qua adesso proviamo a farlo anche con quello che è sparato tutto in avanti vedi questo qua che è quello che è in avanti ovvio che qualcuno che spara qualcuno la bruci anche però se tu hai messo la quantità giusta qualcuno è bruciata allora tieni presente che questa qua era completamente aperta al contrario eh di conseguenza rimane giù no ma questa qui che rimane un po' alta era in avanti eh che è ribaltata indietro è ribaltata indietro ed è ancora lì indietro perché l'altra vedi come si è sparata dritta sì sì e con 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 l'accendino puoi fare tutto quello che vuoi qualche bruci qualche qualche ne metti qualcuno più